Ho fumatori, almeno se ci siate una mano su, uno splip su! Dove sono i fumatori con gli splip su? Fa agro pace! Fa agro pace! Fa agro pace! Fa agro pace! Ho! Uh oh! La Raffaeo Sadiq! La Raffaeo Sadiq! Yo, don't snooze! Yeah, they're Tom Cruise! Laugh! Who won it? Come and see me like one twelve! And I'll rock that bell with Fox and L! E-Dub! Mr Excitement, right? The Portuguese are raps, so come to the light! The recipient of this award comes to moi! The best qualified superstar! Metting is sempre un point! Like tenete, tete, tete! It's the Joy! Oh! senza bella storia per la comunità comunica tra 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 di forte sport i tiopi cagli importe sport i tiopi cagli importe sport i tiopi cagli fatevi sentire per dj rara ci sei o no a firenze ogni porta che porti cuore e mente labbra in un'unica sul sentiero del cli cercatori di pepite d'oro per il mio con la picca e detto sul papiro no stile che stilo a chilo su chilo originità dove origine il nilo della cina prende silo per destino dopo materiali nifugo d'obbligo dove musica al calibro calabro a profalo calori ingradi minamore con amore core core nuovo fiora del paese mandorso bluti della calabrese alle prese dal fascino dell'eco all'evoluzione ottimizzata zero spreco you understand ciò che arreco leggi alla l del maiuscolo scritto in maiuscolo fino al cremuscolo muovo ogni tuo muscolo con chi fate un po di casino per dj luci nel posto oppure no e chi conosce speaker cenzu una mano super speaker cenzu distrattamente piensa commenta la ginella e giorni parano vacante notta fredda mietta maia più pesante mentre smietta stesa in coppolietta e poi non sbaglio infatti segni sotto a pelle ranna forza se non ci sono se ne vena forza i veri tributi a pino daniele rega e e e e e